Che pensi di essere su scherzi a parte? Pensi che non sia vero, ti guardi intorno e dici ma sono proprio io quello lì? E' una cosa un po' strana, un sentimento un po' strano vedersi rappresentato poi da un grande attore come Beppe Fiorello peraltro non sono un santo, non sono un eroe e sono tuttora vivo e quindi è una cosa che fa un po' specie però è una sensazione formidabile, straordinaria non tanto perché racconta la mia storia quanto perché racconta l'impegno e il lavoro dei tanti inviati della RAI che hanno contribuito a fare questa azienda un'azienda vicino ai cittadini e ai telespettatori Le sofferenze dei più deboli che sono in genere i bambini, le donne e le persone anziane le guerre oggi non sono guerre che si svolgono tra eserciti sono guerre asimmetriche per intensità e per tipo di confronto ma soprattutto le guerre sono oggi condotte contro le popolazioni civili e questo sviluppa un dolore e una sofferenza inaudite vedere migliaia di persone in fuga, vedere decine di migliaia di profughi è una cosa straziante io ho visto un campo profughi in Rwanda che era composto da 500.000 persone cioè era grande come una metropoli ed era tutta gente che non aveva futuro né speranze e dormiva sotto le tende ecco, vedere una cosa del genere è una cosa che ti cambia l'esistenza per sempre Per la verità ho imparato da Fiorello Fiorello è un attore così bravo e professionale e meticoloso che come Robert De Niro in Toro Scatenato che era diventato quasi un pugile per interpretare Jack Lamotta lui ha imparato così tanto bene a fare il giornalista guardando, rubando dalla mia professione guardando pezzi che si era scaricato dal web del TG1 del TG2 dove avevo lavorato prima che era diventato più bravo del protagonista più bravo di me quindi oggi Beppe sarebbe un impiato di guerra formidabile grazie